Ciao, sono Sofia e sono networker nel settore benessere. Ho scelto questo corso perché partivo da zero, non sapevo come far partire il mio business e quindi grazie a questo corso Lean io ho imparato tutto e ogni volta che riapro la lezione perché devo approfondire qualcosa imparo sempre qualcosa di nuovo. Per me il corso Lean è una enciclopedia in vero senso della parola. Non ci sono uguali sul mercato e innanzitutto poi io ho scelto Matteo come persona perché è una persona umile e soprattutto ha gli stessi valori che ho io. Grazie al corso Lean sono riuscita a quello che volevo, a fare il part time da casa con il network e quindi consiglio a tutti, è un acquisto migliore della mia vita, pagherei anche mille volte di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.